Buongiorno FTI Online, Borsa e capofitto questa mattina dopo il risultato del referendum inglese, abbiamo il nostro Fuzzimib in questo momento in causa del 10,5% circa, siamo a 16.100 punti, ma sono stati anche toccati dei minimi intorno a 15.850 punti, situazione quindi molto difficile, andiamo a vedere il grafico se ci fornisce qualche indicazione su quello che possono essere le prospettive future dell'indice dopo un evento così drammatico, innanzitutto notiamo che per farlo dobbiamo andare a prendere riferimento dell'all share, visto che il Fuzzimib a quel tempo era quotato solo in termini sintetici, l'11 settembre 2001 il calo dell'indice all share era stato limitato al 7,41%, quindi decisamente più contenuto rispetto al ribasso attuale del 10,5% circa, questo per dare un'idea della portata epocale della decisione che ieri ha preso il Regno Unito rispetto all'Europa. Il forte ribasso che c'è stato oggi, come abbiamo detto, ha portato i prezzi fino ai 15.850 punti circa, per il momento però non è da un punto di vista grafico un evento irrimediabile, ci manteniamo infatti nell'ambito del canale ribassista che i prezzi hanno disegnato dai massimi di fine aprile, canale rispetto al quale il ribasso odierno ha toccato il limite inferiore, il supporto è a 15.920 punti circa, adesso siamo di sopra dei 16.000, quasi a 16.100, quindi quel sostegno per il momento ha tenuto, così come ha tenuto, è abbastanza evidente, il supporto che è offerto dai minimi del 11 febbraio a 15.770 punti, rispetto al quale i prezzi oggi sono andati molto vicino, ma non è stato per il momento violato, quindi sicuramente l'area 15.770 sarà un livello da tenere sotto osservazione stretta, in quanto la sua violazione comporterebbe il termine del tentativo di rimbalzo che c'è stato dai minimi di febbraio e la ripresa del lungo trend ribassista che invece i prezzi avevamo disegnato dai massimi dello scorso luglio, che cosa potrebbe accadere in quel caso? Il proseguimento della fase correttiva che c'è stata dai minimi del 2012, del rialzo del 2012 ai massimi del 2015, rispetto a quella fase correttiva siamo già al di sotto del 61,8% di ritracciamento, il livello successivo nella serie Fibonacci del 78,6 si pone in corrispondenza con i minimi del novembre 2012 e del giugno 2013 in area 14.850, quindi in caso di discesa di sotto di 15.770 il rischio di un ritorno fino a quei livelli, fino in area 14.850, pare molto probabile. Ripetiamo però che per il momento non c'è stato ancora il segnale grafico di resa totale dell'indice rispetto al trend discendente, quindi sono possibili rimbalzi, è evidente che per diventare significativo una fase reazione data la importanza dell'elemento giornaliero che su un grafico a candele giornaliere potrebbe essere classificato sicuramente come un maraboso, quindi un elemento eccezionale, sono una correzione almeno del 50% del singolo elemento, quindi i movimenti almeno al di sopra dei 16.950-17.000 punti sarebbero da considerare una correzione non solo importante, ma anche in grado di invertire il trend visto fino a quel momento. Riteniamo quindi che prudentemente eventuali rimbalzi che verrebbero segnalati al di sopra dei 16.250 punti con un obiettivo, come abbiamo detto fino a 16.950-17.000, dovrebbero essere utilizzati per neutralizzare le posizioni in essere e solo al di sopra dei 17.000 punti torneremo positivi con un primo target sul lato alto del canale decrescente che abbiamo disegnato e che transita a 17.900 circa. Riteniamo comunque che su una seduta di questa ampiezza potrebbe seguire una fase di volatilità ridotta per compensare il movimento eccezionale che c'è stato oggi, prima di prendere decisioni sui portafogli in un'ottica di medio-lungo termine, quindi meglio attendere ancora qualche seduta, sempre che i prezzi non escano dal range che abbiamo indicato, quindi che non scendano di sotto di 15.770 o non salgano di sopra dei 17.000 punti. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buon fine settimana e vi diamo appuntamento a lunedì con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie.